Sono Elena Bendinelli, sono la responsabile commerciale e amministrazione. Sono Agostino Bendinelli, mi occupo della parte produttiva del vino e dell'olio. La nostra azienda è un'azienda familiare, è stata fondata dal nostro padre nel 1961. È andata avanti fino al 98 in maniera, diciamo, come secondo lavoro, in quanto in quei tempi ancora esisteva la mezzadria e quindi non c'era, diciamo, un vero agronomo enologo che invece decideva sulla qualità del vino. Il vino veniva fatto esclusivamente dal territorio. Il vino è un modo di comunicare, quindi è un veicolo, è un mezzo, diciamo, per cui si riesce a stare insieme e a mandare avanti anche dei territori. quindi comunque è un comunicatore di territori, di tradizioni e di persone, quindi. Diciamo, è il legame che puoi avere con un'altra persona. Io non potrei mai stare con una persona, non potrei mai sposare una donna che non gli piace il vino, perché bere da sole è la cosa più triste che c'è.